io non lo so com'è che è successo ma intanto è accaduto ci sono cose che tu non scegli sono loro che scelgono te il marranzano Diego già allora la musica ti chiamava adesso ha 40 anni non puoi più aspettare tu in jacuzzi devi andare lì usano il marranzano per riprodurre il suono della goccia d'acqua un modo per pensare che il ghiaccio si sta sciogliendo e la primavera sta arrivando in jacuzzi dicono che il marranzano suona la felicità ma la jacuzzi esiste per davvero il marranzano il marranzano il marranzano il marranzano il marranzano